Nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 settembre 2020, è stata disputata la terza amichevole estiva precampionato per il Napoli di mister Gennaro Gattuso. Una gara per prepararsi all'immediato inizio di campionato e per testare tutta la rosa, che dovrà essere ridotta numericamente dal direttore sportivo Giuntoli. Un San Paolo aperto solo ai giornalisti, con la presenza per il Molise, della nostra testata, ormai accreditata, fissa, agli eventi della SSC Napoli. La gara è terminata con il risultato di 4-0 per i partenopei, con le reti di Zielischi, Ciciretti, Mertens e Petagna. Quest'ultimo, protagonista di un'ottima prova, con assist e rete in pochissimi minuti. In chiaro scuro, la prova di Victor Rosimane, acquisto più costoso della storia in attacco della SSC Napoli.